Il 25 di luglio parte un sistema di accesso nuovo al laboratorio di analisi, si accederà al laboratorio di analisi attraverso una prenotazione e abbiamo fatto questo per fare in modo che la gente arrivi più facilmente, non aspetti per essere ammessa al prelievo e possa, diciamo così, avere subito la prestazione. Come si fa? Ci si prenota utilizzando uno di questi totem, sono quattro, uno è qui al laboratorio di analisi, uno invece è al poliambulatorio e gli altri due nelle due farmacie comunali, quella del centro e quella del cesano. Per prenotare è facilissimo, basta premere un pulsante e verrà stampata in automatico dalla macchina la prenotazione per accedere al laboratorio di analisi nel momento più utile, nel primo momento possibile. Se invece il giorno successivo non va bene, il cittadino può comunque scegliere tra cinque giorni successivi.